Signori, due fratelli, film del 2003 a cui pensavo fosse una robetta leggerina, e invece è fatto bene, non riesci a staccarti, devi seguire molto bene l'immagine, molto molto esplicativo via immagine, ci sono i dialoghi ma non sono esagerati, qualche effetto speciale che si nota verso la fine, però è bello, ti lascia qualche emozione, voto 8.1 al momento su Team Vision, è carino, veramente carino, non me l'aspettavo, e basta così, un saluto a tutti, se volete iscrivetevi al canale, se volete lasciate un like, ciao ciao!